Si è molto discusso, parliamo ora di economia, nei giorni scorsi della scelta della BCA di alzare il costo del denaro, i riflessi più visibili riguardano naturalmente i mutui già in crescita nei mesi scorsi e per i quali si profila ora un nuovo preoccupante balzo in avanti. E quanto emerge da un'indagine della FAB, il sindacato dei bancari più rappresentativo, che vi anticipiamo qui. Ad agosto eravamo a tassi del 2,45%, ad ottobre del 3,23 un aumento di quasi un punto in soli due mesi e parliamo ormai di un ottobre che a questo punto appare economicamente lontano. Anni luce, già a novembre la traiettoria prevedeva offerte del 5%, ora, ed è questa la notizia che arriva dall'indagine della FAB, ci avviciniamo pericolosamente al 6%, un livello impensabile solo un anno fa quando un mutuo a tasso variabile poteva essere trovato addirittura sotto l'1%. Ora, tra l'altro, il riferimento per il calcolo del variabile è tornato per la prima volta al di sopra di quello fisso, un segnale ulteriore per certificare che il variabile sta diventando poco conveniente, ma che allo stesso tempo trovare un fisso non è un parto indolore, corrate che sono aumentate tra i 100 e i 200 euro al mese. Dall'altra parte, inevitabile la contrazione dei prestiti alle imprese, che non è certo un bel segnale. Il realismo di Lando Maria Sileoni, segretario della FAB. La decisione della BCE potrebbe far alzare i tassi dei mutui, ad eccezione di quelli già contratti con le banche a tasso fisso.